Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del perché le diete falliscono. La prima cosa che sicuramente farà fallire una dieta è quello di passare dal mangiare tanto al mangiare poco. Dopo un certo periodo sarà facile cadere nelle abbuffate. Quindi cosa fare? Semplicemente partire con molta pazienza e andare piano piano. Secondo motivo per cui le diete falliscono eliminare qualsiasi cibo dalla faccia della terra e mangiare solo 3-4 alimenti. Magari per alcune persone andrà bene così ma per altre no. Esempio il fatto di mangiare bene non significa per forza non mangiare dolci e altre cose così ma magari possiamo costruire una dieta con il 90% di cibo che sicuramente non deve essere spazzatura e magari un 10% dove ci diamo tipo un piccolo dolcino. Se la dieta è fatta bene non succederà nulla. Il terzo motivo che farà fallire la vostra dieta è quello di non chiamare dieta la vostra dieta. Ovvero il mangiare sano deve diventare uno stile di vita quindi prendere consapevolezza di ciò che stiamo introducendo con il nostro cibo e della qualità degli alimenti che noi andiamo ad usare. Questo ci consentirà di creare una serie di abitudini sane che farà sparire dalla nostra testa il concetto stesso di dieta e ricordate che è una dieta sostenibile nel tempo nel momento in cui voi iniziate ad amare il vostro stile di vita, il vostro corpo e soprattutto la vostra salute. Beh con questo io ho concluso se avete da aggiungere qualcosa o la pensate come me oppure non mi volete mandare a quel paese scrivetelo nei commenti lasciate un like se vi è piaciuto questo video se non vi è piaciuto non fate un cazzo perché dislike fanno male e niente ragazzi la dieta cos'è la dieta? Io mangio bene perché mi piace mangiare bene ciao e soprattutto mangio tanto perché ho bisogno di mangiare. Grazie per la visione!